Beh, ho sempre sognato di affrontare un'apocalisse zombie, ma nei videogiochi... Fai un salto! Non a caso, cioè qui. Ah, ma che bei colori! Guarda la macchina. Andiamo. Anzi, aspetta dai. Prendiamo il tocco di glass. Cacciati suv? Andiamo suv. E c'è il velare. C'è. Io fino a quando ho lavorato all'ospedale e in un'altra vita, c'è in un'altra città. Arriva. Vado in giro col gallardo. Ah, in un'altra città. Anche lei viene da un'altra città. Eh sì, vengo da un'altra city. Andiamo. Vammonos. Ah, signorina, si metta lei davanti. Ah. Dov'è che ti ha detto, Casino? Sì, è il Casino. Prima mi pare che è arrivato un messaggio che era aperto. Mmh. Sai che fregatura? Ogni volta che devi entrare, mille dollari. Eh sì. Per un biglietto che durò una volta. Ah, la faccia, mille dollari. Ieri, ma ho detto 190. Io ho detto, no, no, mi sa che abbiamo, siamo andati un po' troppo sotto. Eh sì. Mi sa, una poveraccia. Vabbè, per mille dollari. Eh, ma, cioè, sto a raccogliere il cotone. Figuriamoci. Ma lei lo va a vendere dal signor Ted. E chi è? Sono andata in ospedale. Il negozio di vestiti, anche... Ah, ma non c'era mai nessuno. Lei è su Twitter? Eh, sì. Eh, faccia sempre un posto lì, magari qualcuno le risponde. Eh, sì, ma mi ha risposto quello lì dell'ospedale e sono andata lì a vendere. Mmh, mmh. Ma penso che siano uguali i prezzi e ognuno c'è il suo prezzo. Eh, no, penso che siano uguali tutti. Eh, beh, allora è uguale. Eh, vabbè, però, magari hai una persona in più a cui portarlo. Ah, beh, quello sì. Ecco lei, signorina. Ah, ma voi non venite? Eh, non so, vuoi fare un salto a te? Eh, dai, entriamo un pochino, poi vado. Beh. Scendete che perché giù la macchina dietro, arrivo. Buonasera. Buonasera, fratelli. Com'è? Solito. Buonasera. Mi dai l'ok per entrare vestito così? Fai che gare, però, va. Eh, posso venire a riprendere il mio outfit nel magazzino? Sì. E mi vesto elegante almeno. Ok. Grazie. Vuoi entrare? Eh, sì, pago io l'entrata alla signorina. Ok. Grazie mille. E dica. Ancora il fattore. Sera, eccomi. Sera. Tutto bene? Tutto bene? Ma è il capitano quello che ha scritto adesso su Twitter? È chiuso. Non penso. Harry. Andamena lui. No. Dite, mi lascia appena per pagare i password? Grazie caro. E vado a prenderne altri. Hai già pagato a lei? Sì, sì, ho pagato io. Ok. Ma non si potrebbe fare un abbonamento? Ho visto che è caruccio. No, no. Ci hanno solo entrate e uscite. Ma quando esci, mi raccomando, occhio perché dopo non vale più il passo. Appena entri, te lo chiedono. Sì, tipo il cinema. Sì, se non lo voglio dare ti pissano, no scherzo. Però... Ma sono appena preso, cioè... Non è che siamo 4.000 in fila, si ricorderà sto signore. Sì, assolutamente. No, ma tanto te lo prende il ragazzo all'entrata a destra subito, appena entri. Già non ce l'hai più in tasca, neanche il tempo di entrare. Sono velocissimi. Smazzate però. Eh, vabbè, sono veloci perché nell'ascensore per entrare ci sta... Ma c'è la ruota di fortuna? Sì. Sì. Costa però 15.000. Quanto? 15.000. Però, cioè... Io la provo, dai. Se fosse tutto facile. Poi c'è il blackjack, mi pare. Sì. Si può giocare tutto. C'è il blackjack. C'è il blackjack. C'è il blackjack. C'è la... 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 No, vabbè, per dire. Non voglio... Andare oltre con lo scroco. Ehm... A me. Grazie mille. Ecco lei. Faiata. Numerina magica? Ehm... 91. Ed ecco lei. Grazie mille. Ehm... Ehm... Ci vediamo subito, ci vediamo su, ok? Ehm... Ehm... Grazie. Sì. Andiamo dentro. Vamonos. Anzi, è entrata. Arrivo che devo lasciare una cosa. Arrivo. Ma non ho capito. Nella... Nella ruota della fortuna puoi vincere anche la Ferrari? No, assolutamente no. Tu la sai? Quella la... Quella la piccola. Ah, questo era il Montepremi della... Ah, ma... Ah, beh. No, magari... Magari. Ah, no. E cos'è? E cos'è? Perché? No, ti fanno vedere la macchina e ti danno il modellino. Ma ti danno. Ma va... Il modellino? Che scrive? Cioè, spendo 15 mila euro? Sì, sì, sì. Prendino, ma... No, penso che ogni... Loro hanno delle altre auto per la vincita, penso. Penso. Ma perché lì, allora? Eh, per bellezza, sì. Per estetica, signorina. Ah, mamma mia. Inveglia le persone a perdere soldi e a guadagnarli, se c'è i culo. Ah, no, perché sembra che si possa vincere, anche se comunque ci saranno 50 mila probabilità di perdere. Penso il premio più basso della ruota, capitano, che cosa? Le consumazioni? Sì. Eh, quello è. Ma io preferisco il blackjack, sinceramente. Sì, pure io, magari. Almeno si vince il blackjack, quindi. Eh, una meraviglia. No, è vero, è vero. Ma io ho sentito un stacco di gente che si lamenta che si perde sempre, così. Beh, io sono partito con 5 mila fishe, adesso sono 30 mila. Ah, però ha fortunato. Guarda caso, la gente qui è uscita con 400k di vincita. Anche, sì. Dalla ruota alla fortuna, però. Vabbè, ma bisogna vedere quante volte sono venuti. No, 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 in un giorno. Era la prima volta che venivano. Eh, una tra le prime volte sono venuti. Ah, però, forse c'è speranza. Il signore è morto. Chi? Eh, quello là, volevo chiedergli di fargli ero, ma... Ma chi, il cassiere? Sì. Ma vedo che sta in piedi. Non sta parlando? Beh, sì. Ha gli occhiali, secondo me ha gli occhiali. Ci avrà male a un occhio. E starà facendo qualcosa. Te lo vedo, lo so. Allora. Numero? Ecco, lei. Tonde, tonde. Lei, numero? Ehm... Cinque, sei. Esatto. Ecco. Thank you. Buona giornata, Capitano. Buona giornata anche a voi. C'è una domanda. Per la ruota. Ci vediamo stasera, Capitano. Sì? Eh sì, ci vediamo stasera per il... Ehm... 15.000 fish, la gira e il premio run. Ah, ok. E per le fish bisogna... Chiederemo. Ah, ok. Quanto vale una fish? Tipo... Un dollaro? Un dollaro? Un dollaro? Un fish? Siamo in America. Un dollaro. E' vero. E allora va bene, 15.000 fish. 15.000? Perfetto, faccio fattura. Niente di più, sono una rec, non mi permetto di animare sicuramente. Però... Diciamo che ho fatto una figuraccia. No, dai. L'ho fatta io, figuriamoci voi. Signorina. Ma non è che arriveranno i zombie adesso? Adesso basta che mi avvicino e Eva. Mmm... Non si sa. Ma questo è un locale protetto. Però signorina, lei c'ha la fortuna che intorno c'è tre genti di polizia. Esatto. Ah! Mettiti così non poterlo. Sì, uno l'avevo capito, ma gli altri no. Ah beh, speriamo. E' scortata. Ah, sono a posto allora. Sento già meglio. Uè, Miros. Ok, faccio fattura. Andiamo a vedere il suo giro. Ecco a te. Speriamo bene. 25.000. Ammazza. Ho riadubbiato. Ho riadubbiato. Ho riadubbiato, capitano. Un po' costosa, sì. Eh, ma non le provo. Ma ho preso 25.000. Quanto hai preso? 25.000. Hai speso 15.000 e hai preso 25.000? Sì. Stonks. Ce le provo? Non lo so. Io ci riproverei. Tanto è gratis, praticamente. Ma se, io vorrei il veicolo. Eh, vabbè. Eh, sì. Ti chi è che non lo vorrei? C'è, se c'è il veicolo ci sarà un motivo. Ecco. Ah, sì, è vero. C'è il design della macchina. Tut, 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 tut. Rip. Cos'è? Un vestito. Un vestito a kosmita? Un vestito, ma quale sarà? è un buono un buono outfit a dalla sarta e lei è pagato hai pagato 10 mila dollari un outfit non vale vabbè c'ho 10.000 e che si fa che possiamo fare io non ho mai fatto il blackjack capitano lei l'ha fatta poi al blackjack si maestro al maestro ci insegni noi guardiamo ora mi do una mano ma andiamo ho vinto 25.000 un outfit così c'è qualcuno c'ha culo io volevo la macchina è il campione 6 per la macchina che sa che se vinco la macchina cosa faccio niente ti vuoi a schiantare niente mi vado a schiantare contro un muro chiamami quando lo fai che devo ridere un po mamma mia guarda se capitano se vinco la macchina poi voglio vedere in seguimenti con quella faccio le risate nere però la vendo al alla polizia così poi non cambia un altro no premia per più giù e andiamo a giocare vai no cosa è uscito no di qua di qua di qua questo è il tavolo blackjack questo partiamo bene andiamo una meraviglia insomma vai non puntate tanto se non avete tanto ok mo io ho 10.000 40k faccio nel 5 il debito e come che si punta punta scelta vada spazio appuntiamo 300 proviamo posso se tanto non posso seguire con voi io guardo quanto avete puntato io 300 io 600 ma perché tu c'hai le monetine io no mi sono più simpatico che non hai puntato ah non hai puntato tozzoso eh dovevi avere il muscolo in via prima ah in effetti non ho puntato annaggia quanto c'hai 17 non puntare stai eh sì che sto perché se col culo che c'ho quanto mi fa 20 no 12 ti prego spara un 27 ti prego niente sei un maledetto sei questa è la simpatica la signorina del bancone di là però allora punta ho puntata ok e dai banchiere regalami una gioia dai appunto capitano 30.000 e più ma ho 300 300 800 la domanda vale 8 cosa bisogna fare il 25 cosa 21 di 21 21 io avevo 19 è quello che ti stava dicendo il capitano e siamo 6 per la mano di cavolo ma come fa a vedere io non vedo ma ma quando mi dà le carte quando mi spetta deve finire 16 sì mi sto un attimo è bene vediamo ma 14 14 no sì però ragazzi sto per diventare offensivo ma non ne vince una mi ricordo sempre di 600 mai 400 adesso signorina prenda muscolo spazio e scriva una cifra da uno a mille la sua scelta faccio più o meno come me 300 8 400 deve puntare 6 ma dopo devo fare muscolo invio io sei per convulsore no 12 12 bussi bussi 22 mannaggia lui per forza comunque il concessionario aperto finalmente avventimo e muovo già lo so io ho finito capitano e magico ma che saranno oggi ho giocato troppe volte so già come capitano lo so anch'io infatti mi non mi rinforzisco neanche più mannaggia io sto iniziando a pensare che poi c'è il black jack sta diventando un qualcosa di inutile nella mia vita in questo momento facciamo la puntata matta adesso io ve lo dico ma come fattevo prima puntata matta dai avevo 10k all in 20k all in 6 6 5 e ma adesso con noi al sedi 20 io 20 ti stai ovviamente stai 16 o la signorina perfetto con 10 10 io mi fermo come io no 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 deve bussare muscolo spazio signore si stia no ho visto ma no ma è tre ore che bussavo no sì ma questa è una violona dai cioè a 19 mi sono fermata 25 ho vinto 2 mila così avvinto no perché ha vinto no 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 sono nata 25 mi ero fermata 19 ma la signora all'orecchio del mercante no non ci gioco più un imbroglio imbroglio bene ci sentiamo più tardi e dopo vabbè guarda dopo capitano faccio un'ultima puntata per riprovarci ma basta poi dopo vabbè il capitano se ne va siamo fottuti tanto non è che sto andando meglio 5 è bella sta mano faccio benissimo è una meraviglia passo che vale 11 1 questo c'è 10 già o 10 14 7 12 no busso nell'unica non mi fa bussare 24 mi fa bussare e vabbè vabbè guarda chi ha fatto sto bancone se deve morì ma no ma dai ma io ho bussato per 40 minuti no basta non ci vengo più si è già resa peggio ma no scusa avevo 20 ho bussato e questo continuo a dare carte all'infinito finchè uno sballa ma dai 7800 io me ne vado come mi riesco a piazzare il mio lin è di 400 aspettami l'800 come va va dai vai come va va no ma io lo vado a dire lì al cassiere no quello è il proprietario vabbè il proprietario quello che è è appunto ancora peggio che io e 40 minuti che buss e questa continua a dare le carte eh ma devi bussare una volta signori eh ma perché lei continuava a darmela e io bussavo di nuovo eh ma tu eh ma il bussare sarebbe darmi la carta ma come il bussare e darmi la carta il buss significa darmi la carta ma prima avete detto che devo bussare per fermarti eh sì bussare per no per farmi dare la carta avevi 10 mi devi arrivare a 21 e ditelo eh che ne so io e allora per fermarmi cosa devo fare eh vabbè se no stai mi sto con questo non posso stare con nient'altro va bene così ti prego ti prego ti prego ti prego se mi riesce 18 17 17 ho finito ho finito 15.000 vabbè io termino qua e vado a farmi la ruota per l'ultima volta eh io rifaccio all in con le mie 800 allora andiamo a vedere tutti la ruota dai eh faccio l'ultima puntata aspetta dai sì faccio all in con le mie 800 chips dai tavolino si muova gentilmente io ho da fare 15.600 vabbè ma chi è sta roba vediamo 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 speriamo cos'è sta roba cos'è rp ah ma rp ma qua non c'è lrp consumazione consumazione che mi dà da bere che schifo vabbè andata così si diventa sempre più poveri c'è la fine è più quello che abbiamo speso ah maus sempre così così buona serata fraderic buona serata grazie buona serata buona serata arrivo comunque alla fine qualcuno ci ha guadagnato eh no nessuno ci ho perso tutti perfetto entrati felici piacendo piangendo ma cavoli ma sì comunque secondo me lì è truccato sì ma non lo so so che c'è sempre gente che si lamenta ma in tutti i casino è così eh beh sì ci sarà una vasta probabilità di vincita niente sono diventato povero che è successo? eh no sto iniziando a spendere troppo no mi rimangono 450 mila sì beh ah lei potrei anche scendere qua mi dica lei ma sì qua basta che sto in centro tanto l'albergo è più o meno qui in zona ma lei è stato un piacere conoscerla grazie avete fatto una grande compagnia vi ringrazio tantissimo perché io non conosco nessuno quindi mi fa piacere se vuole lascia il numero se vuole certe volte andare a fare qualche giro sì grazie guardi me lo segno aspetta no ma mi dica al suo che sono già qua sono apposta non mi ricordo più come si faceva vedere eh su impostazioni del telefono ah sì aspetti ah sì allora 555 3733 mi scusi ma non ho ancora chiesto il nome sì mi chiamo Alissa Alissa perfetto ok adesso le mando un numero anzi le mando un messaggio così mi salva sì se certe volte bisogna di compagnia qualsiasi cosa non faccia esito a chiamarmi aspetta allora sì grazie di me è arrivato ok arrivederci ciao alla prossima signorina arrivederci sto facendo oh eccomi che mi sono perso e niente fermate benissimo allora ragazzi mi raccomando mettete un bel mi piace a questo video e come sempre se ancora non l'avete fatto naturalmente iscrivetevi al canale ciao e alla prossima signorina oh aspetti pure io me la voglio comprare questa ma la vende? la vendono? eh sì assolutamente la vende c'è pure rosa e la può scegliere dopo lo sceglie lei il colore signorina ah ok perfetto quando la va a modificare dal signor Paul chi è? quello del motoclub ah ok ah vabbè ci farò un pensiero ma com'è? bella eh? eh sì è figa è figa carina a me che ci ho passato un'infanzia col Vespino ma quanto costa? se lo ricordo eh non penso costa molto è per quello infatti eh sì va bene ci faccio un pensiero va bene signorina io scappo a fare delle cosine ci vediamo stasera se è presente va bene va bene se no domani nei prossimi giorni assolutamente è stato un piacere arrivederci è stato un piacere arrivederci grazie 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 grazie